No, non me l'aspettavo per niente, ero scesa in pista proprio per dare il massimo e soprattutto dopo gli europei ho molta rabbia, molta determinazione e voglia di far bene e ho concluso la stagione nel miglior modo, quindi sono davvero contenta Sì, forse è un riscatto perché comunque gli europei in fin dei conti sono andati bene però potrebbero andare meglio, quindi avevo sicuramente voglia di far meglio, voglia di dimostrare che posso far meglio quindi sono felice Il nuovo campione d'Italia nella sua scelta di Puglone e poi ritornati per l'Italia Esattamente A Predats, sì Mi piace da fare con gli allenamenti, ti piace? Sì, tantissimo, no vabbè poi allenarsi con le montagne è stupendo io adoro il paesaggio montanaro quindi è stata una preparazione molto bella